Nel 600, nella tenuta della Magliana, dilagano le febbre malariche. I pontefici se ne tengono volentieri alla larga. L'ultimo porporato a mettervi piede pare sia stato nel 1611 il cardinal Ferdinando Gonzaga, amante delle cacce a cavallo e per questo incurante dei morsi della zanzara Anopheles. Nella tenuta accanto a Pian Due Torri sembra esserci invece ancora una discreta efficienza agraria. Lo testimoniano le taxe, pagate più o meno regolarmente dalle due arci confraternite del Gonfalone e Sancta Sanctorum. Tutto cambia però proprio a Pian Due Torri nell'anno Sorribilis 1656, l'anno della peste romana. La tenuta si trasformerà in un'immensa fossa comune, dove si stima possono esservi sepolti, fino a 15.000 corpi. Raccontiamo questa storia con ordine. Il primo contagio cittadino si registra il 5 maggio 1656 al Rione Ponte. È una bimba con petecchie e carbone. Appena fuori città, alle vigne di Montemario, nello stesso giorno è segnalata una contadina con un carbone a una gamba. L'8 maggio Giuseppe Balestra, chirurgo dell'ospedale Fatebene Fratelli dell'Isola Tiberina, incomincia a tenere un diario medico preoccupato dai sintomi anomali dei ricoverati. Sete insaziabile, vomito e diarrea, gangli ingrossati e buboni, febbre alta, sonno prolungato e improvvisi deliri. I malati hanno il colore blu del piombo e necrosi alle estremità. Lingua, orecchie, naso, mani e piedi. È peste, Balestra ne è convinto. Ma sul momento sono in pochi a crederlo. Il popolino a nota Balestra parla genericamente di un mal contagioso e pensa che le influenze occulte del cielo sappiano distinguere i peccatori dagli uomini di fede, colpendo selettivamente i primi e scampando i secondi. Raccomandarsi a Dio sera e mattina è ritenuto una buona profilassi e, in caso malaugurato di contagio, un intruglio a base di rospi secchi, molle di vino o aceto è considerato un efficace rimedio. La congregazione di Sanità intuisce tuttavia che la situazione è seria. A giugno ordina di murare e sigillare a calce le case degli ammalati e di prelevarli a forza per concentrarli all'isola tiberina, trasformata in lazzaretto. Il chirurgo Balestra ne ha lasciato una descrizione terrificante. «Luogo d'orrore, ove altro non sodono che lamenti dei miseri e stridori dei frenetichi che posti in croce nei propri letti assordano i sani. Altro non si mira che lacrimevoli spettacoli, fetore e spavento». Un cordone sanitario chiude intanto anche i due rioni vicini all'isola tiberina. Le porte del ghetto ebraico vengono sbarrate, mentre a Trastevere viene tirato su in fretta e furia un muro vigilato da guardie, tra Santa Cecilia e San Crisogono. Di fronte alla magliana a Tordivalle si allestisce lo spurgo delle suppellettili, per il lavaggio nel fosso del Torrino, delle vesti e degli altri oggetti entrati in contatto con i malati. Altri spurghi si trovano al torrente Almone, che sfocia presso l'attuale gazometro, e alla marrana di Villa Panfili, che sfocia nell'attuale piazza Meucci. Tutti i medici romani sono tenuti a prestare al lazzaretto un turno obbligatorio di 15 giorni, a rotazione. Uno dei primi dottori della peste cooptati per il lazzaretto si chiama Bernardino Guasconi, detto il Vasconio. Indossa al naso un gran spungone, una maschera di spugna imbevuta d'aceto, ed è solito darsi forza bevendo Giacinto e Alkermes. I suoi movimenti tra le corsie sono preceduti da un gran padellone di profumi. L'armamentario non gli servirà a evitare il contagio e scampare la morte. I suoi successori unificano spungone e padellone in un unico accessorio, la maschera a becco, e aggiungono occhiali, mantella incerata impermeabile e una bacchetta lunga sei palmi, per mantenere dagli appestati la distanza di sicurezza di un metro e mezzo. La congregazione di sanità adotta ulteriori e drastiche misure. Sono vietati gli assembramenti in strada, i mercati si spostano fuori città, e paltronieri e mendicanti, cioè i nullafacenti, accusati di diffondere il morbo, vengono deportati alle saline di Maccarese. Roma si ritrova così deserta e silente. Nessuno attende più ai commerci e alle manifatture. Arriva anche, scrive Balestra, una peste più insuperabile, che è la fame. Chi non è in grado di sostentarsi con l'uso delle arti e delle braccia, riceve un sussidio di carità dalla Camera Apostolica. Al tramonto, però, la città torna ad animarsi. Si raggiungono alla spicciolata le chiese, per la recita del De Profundis, seguita mezz'ora dopo da un quarto d'ora di campana a morto. In piena notte è possibile sentire per strada i campanacci che segnalano il passaggio della carretta. La carretta è una rudimentale ambulanza per il trasporto dei contagiati dall'aspetto sinistro. È una sorta di bara con quattro ruote. È trainata da un cavallo e due sacconi, galeotti dal volto incappucciato in una saraca di tela verde. Ad altri galeotti, i barlanti, è affidato il lavoro dei becchini. Ogni notte fanno il giro del lazzaretto e trasportano a spalla le salme fino a speciali barche, con cui i barlanti discendono il Tevere. Arrivano a Pianduetorri, dove si trova la fossa comune. In questa fossa vengono sepolte la gran parte delle 15.000 vittime mietute dal morbo, su una popolazione complessiva romana sotto i 100.000 abitanti. Quando la fossa non basta più, si ricorre a una seconda fossa, sulla riva opposta, di Valco San Paolo.